Allora, il Consorzio per la Libra Università di Catanzaro nacque nel 1972, costituito da vari enti. I responsabili erano il Presidente Blasco, nella qualità di Presidente Ciccolunione, Elio Tiriolo, nella qualità di Presidente della Camera di Commercio, l'On. Ernesto Pucci, nella qualità di Presidente della Col di Retti, l'On. Franco Bova, nella qualità di Presidente della Cassa degli Artigiani e l'ingegnere Vincenzo Speziali, nella qualità di Presidente degli Industriali della provincia di Catanzaro. Nel gennaio del 1973, dopo la costruzione del Consorzio per la Libra Università, nel 1973 si tennero l'inaugurazione dell'anno accademico con la produzione del senatore Alfonso Desauro, magnifico rettore della Libra Università di Catanzaro. Successivamente alla produzione, nel 1974 fino al 1976 continuarono i corsi delle quattro facoltà. Nel 1976, purtroppo, le condizioni economiche dell'ente erano molto labili, quindi non si poteva andare avanti, ma si andò avanti solo e discursivamente con la facoltà di medicina, perché le altre facoltà furono soppresse. E grazie alla determinazione dell'allora degli studenti che si costituirono nel comitato, il rappresentante del comitato degli studenti, Aristide Anfosso, condusse una battaglia enorme affinché l'università non fosse chiusa. La costituzione è parte del 1972, i corsi universitari durarono fino al 1976 le quattro facoltà, poi le questioni economiche furono soppresse le tre facoltà, giurisprudenza, scienze politiche e pedagogia, e continuò solo medicina. Grazie anche all'onorevole Pucci, perché le condizioni economiche dell'ente erano veramente tragiche. L'onorevole Pucci si adoperò affinché le vincite del totocalcio non riscosse, le fece dirottare al Consorzio per la Libra Università. E così abbiamo potuto continuare la vita universitaria, dove dopo tre anni nacque il Consorzio per la Promozione della Cultura degli Studi Universitari di Catanzaro, costituito tra comune e provincia. Dopo d'allora, in tre anni, dal 1979 all'82, nacque l'Università degli Studi di Reggio Calabria Statale. All'inizio vide partire quattro corsi universitari, pedagogia, scienze politiche, giurisprudenza e medicina, ma che nel 1976 purtroppo vide anche la chiusura dei tre corsi all'esclusione di quello di medicina, che doveva chiudere nel giugno del 1976, stante le difficoltà economiche dell'Ente, stante anche la grande pressione politica che veniva esercitata da più parti dalla Regione Calabria, da tutte le province, perché si realizzasse solo quello che si stava già realizzando, l'Università della Calabria. Bisogna tenere presente che queste condizioni politiche nascevano dalla determinazione del cosiddetto pacchetto Colombo. Nel 1970, a seguito dei moti di Reggio Calabria, Catanzaro divenne capoluogo. A Rende fu assegnata l'Università, a Reggio Calabria, allora le province erano tre, l'area industriale e la sede del Consiglio regionale. Per cui, aprire a quell'epoca, nel 72-73, dei corsi universitari in una città come Catanzaro, con accordi politici già determinati, era una cosa veramente rivoluzionaria, cioè una cosa fuori dalla logica politica e partitica. Stiamo parlando dei tempi in cui i partiti avevano una valenza notevole dal punto di vista progettuale, politico, sociale, per cui questa università nacque mal vista subito, questi corsi nacquero mal visti. Io mi trovai nel 75-76, finito il benio a Pisa, a scendere a Catanzaro e quando mi iscrissi a Napoli, perché allora ci si iscriveva a Napoli come facoltà di medicina, i corsi venivano fatti qui a Catanzaro, capì subito che la situazione era drammatica, che in realtà mi stavo frequentando dei corsi che di lì a qualche mese sarebbero stati chiusi.